Il primo giorno è un ragazzo da far studiare. Potma, sei chilometri andare e sei a tornare, mi sembrano un po' tanti. È giovane, ha le gambe buone. Pistiani, proprio adesso che siamo qui, che lo aspettiamo un altro. Lui poteva cominciare a darci una mano anche a casa. Se non ti aiuterà adesso, ti aiuterà di più quando sarai grande. Tantà, lasci fa la provvidenza. A pensare che sono venuto grande anch'io, senza prendere il mondo delle scuole. Questa non è una buona ragione, e lo sai anche te. Se il signor ha gabbato l'intelligenza a tuo figlio, e sei io che pretende più da lui che da uno degli altri, e che che sei suo padre, hai il dovere di secondare la volontà del Signore. Ci mancavano anche questi pensieri qua. Il signor della cruce, padre, figlio e spirito santo, ame. Sa, sotto al des. Le comande a San Angelo custode, che sta sempre vicino. Allora, sei contento di andare a scuola? Prima sulle spalle bene, dopo sul col e le orecchie. Adesso chiudi su bene gli occhi, che ci diamo una bella insaponata. Madonna che belezza! Ok, io voglio fare che ti vado dei matteli. Eccolo lì. Zoro! Ah, sta la pena della dora. No, lascia stare. Minè, dormi adesso. Domani mattina, prima di andare a scuola, di suo padre ave gloria. Che il Signore ti illumina la mente. Esa, Esa! Andrè, 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 Andrè. Non c'è l'ho ma sfadiga, quando la limaga lascia la rosa e giù i noci cerca la sposa. Ossa i cani, carne al beccaio, la sangue per far la torta. E' un caecian del chilo, chi come ascolta? Ma cosa dite, Battisti? Chissà come fai a inventare queste storie. Tutte le sere ne ha una nuova. E' un caecian del chilo. Ciao, sei arrivato? Vieni a riscaldarti un po'. Vieni. Fa freddo oggi. Il calcio è lega, i piedi tutti bagnati. Sa che leviamo i gioccoli e i calcini. Oggi ti riscaldi un po' i piedi. Fa freddo oggi. Vieni. Tu andrà un po' i gioccoli e i calcini. Tu andrà un po' i gioccoli e i calcini. Tu andrà un po' i gioccoli e i calcini. E dell'acqua? L'ha detto che nell'acqua e tante pesciolini. I pesci? No, non i pesci. Altre pesciolini piccinini, piccinini. Che non guccia l'acqua. Ce n'è dentro tante. Anche nell'acqua da bere. Nell'acqua dei bici? Sì, gli stiolini piccinini piccinini che non si vedono neanche. Porta, ma se non si vedono come fanno a dire che c'è dentro quelle bestiolini lì? C'è una macchina posta con un coso dove guardano dentro nell'acqua. Una macchina dei dottori? Sì. Ma ce ne sono ancora di roba di imparare a sto mondo. C'è una macchina? C'è una macchina? C'è una macchina? a tutti Odi, stai indietro, lasciami stare, vai indietro, non Dito, lasciami stare. Odi, stai indietro, non Dito, non Dito, non Dito, non Dito, non Dito, non Dito. Odi, stai indietro, non Dito, non Dito, non Dito, non Dito, non Dito. Ti metto vicino al fuoco, intanto che ce la cenerebbe la calda. Eccola, scalda su ben i piedi che ce li hai tutti gelati. Dai, fammi vedere. Come mai hai rotto il zoccolo? Vine, vieni su a vedere. Gli è arrivato un altro fratellino. E' venuto a casa con i piedi tutti bagnati. Non dici che si è rotto lo zoccolo. Cito ne è. Vieni! 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 Stati buoni, eh? Sti buoni, eh, che io devo darvi un momento. Ti raccomando, eh? Vati bravi. 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 Vati bravi.